Questa è una cosa che ti volevo dire, lo dico io, la rappresentanza di tutti, perché tutto quello che sta a succedere adesso è stato prima dei fiorini, che poi non c'erano la colpa d'Italia dell'anno scorso, non c'erano niente, non c'erano niente, e noi avevamo una gianna cosa per ricordo di noi, almeno te la diamo forza a faccia. Bella, 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 bella! A volte fa una foto! Vabbè, rischiamo una foto! Dai! Grazie a tutti! Facciamo, vai! Vai!